La domanda era i magistrati in politica, lei condivide il procuratore o no faccio i casi dei magistrati, l'ultimo di Pietro, ma poi andando indietro nel tempo Violante, Ayala e tanti altri che hanno dismesso la toga per svolgere le mansioni pubbliche e poi magari sono ritornati in magistratura. Prima di rispondere a questa domanda volevo intervenire un attimo in sede di replica su quello che ha detto Alberto Lavolpe, nel senso che è vero che ci sono delle spese elettorali che possono creare questo problema, è vero anche che il sistema delle preferenze può far controllare il voto, però nel corso di un'indagine a me è successo qualcosa che mi ha aperto un po' gli occhi su questo modo, soprattutto della mafia, di controllare i voti, perché è venuto fuori, adesso non tanto il fatto che la mafia oggi ha bisogno anche di comprare i voti, il che per me, almeno in Sicilia è successo recentemente nel corso di un'indagine, il che significa che la mafia ha perso autorevolezza, mentre prima li chiedeva adesso deve pure dare dei soldi e nel contempo si viste le somme che vengono richieste per un voto 50 euro e in certi ambienti, in certe zone povere addirittura 10 euro per un voto, mi pare che la politica sia veramente finita in basso, perché se questo è il costo di un voto. Detto questo, in quell'altra indagine ci siamo resi conto come una famiglia mafiosa riesce a controllare, non a controllare, a votare per conto dell'elettore, il sistema è molto semplice, qualcuno lo conosce, allora basta avere una persona all'interno di un seggio elettorale che riesca a far uscire in uno dei tanti momenti di intervallo e prima che inizino le elezioni c'è la conta delle schede, nei pacchi di schede di solito ne manca qualcuno, qualcuno ce n'è in più, basta comunque prendere una scheda non votata ma bollata e vidimata e farla uscire fuori. Fuori una persona, naturalmente mafioso o partito politico che vuole controllare i voti di quella sezione o delle persone che hanno promesso il voto, vota la scheda e la consegna all'elettore che deve andare a votare, il quale se la mette in tasca nel momento in cui va a votare si riceve una scheda in bianco, sperando che non sbagli, si mette in una tasca quella bianca e esce quella già votata che mette poi nell'urna. Quella che non è votata la consegna fuori a quello che aspetta, il quale vota quella successiva e così con una catena praticamente il voto lo fa quello che sta fuori, non l'elettore. Quindi parlare di preferenze di controllo di voti quando si arriva a questi sistemi, naturalmente con la connivenza di qualcuno che non fa bene il suo lavoro all'interno dei seggi, è chiaro che qualsiasi sistema poi ha, il problema è l'uomo e chi esercita certe funzioni. Per quanto riguarda la domanda che mi è stato fatta, i magistrati in politica, beh io non lo so, io sarei un po' orressiva personalmente ad andare in politica perché io dico che uno deve fare quello che sa fare, cioè fare la politica tranne di non diventare improvvisatori. Però dico una cosa, che la difficoltà non è tanto per un magistrato fare politica, perché è giusto secondo me che come tutti i cittadini abbia questa possibilità, perché creare una selezione tale che il magistrato deve essere uno che non può fare politica mentre tutti gli altri lo possono fare, però ha una condizione che se sceglie di fare politica deve accettare il rischio e non tornare più in magistratura. Questo mi pare che si debba ai cittadini per evitare di essere tornando in magistratura etichettati come colore politico. Questa mi pare una giusta soluzione mediana, cioè potrebbe poterlo fare ma non tornare. Non dimentichiamo però che in altri paesi, visto negli Stati Uniti, alcune magistrature minori sono soggette ad elezioni addirittura, qualcosa che anche il nostro Bossi vorrebbe introdurre per la padania. Non hanno nessun problema perché i candidati magistrati a fare i giudici una certa contea si schierano o con i repubblicani o con i democratici. uno si elegge il giudice o repubblicano o democratico. Però è tutto fatto con la piena consapevolezza che anche se un giudice è repubblicano non è che per questo darà ragione sempre solo ai repubblicani. C'è un'etica poi e un controllo che va al di là di quelle che sono le appartenenze politiche. Ma è un altro sistema, è un'altra cultura, è altro.